Eccoci qui, appena conclusa da pochissimo, la sesta edizione del microfono d'oro condotta dal bravissimo e organizzata Fabrizio Pacifici. Ciao Fabrizio. Grazie Cristian, sempre presente ai miei eventi, ovviamente ho presentato questa sesta edizione con Cosetta Turco, la mia compagna di avventure da un po' di tempo. Grandissimo successo, tantissimi ospiti, tantissimi speaker radiofonici importanti che ci accompagnano ogni giorno con le loro voci. E' veramente stato molto molto bello e adesso è appena finita. Ecco, è stato bellissimo, come sempre e più di sempre abbiamo sentito qualche voce che è intorno dei radiofonici, come li chiamiamo, i speaker. Siamo in pieno backstage, io ti ringrazio a te, ovviamente sei saluto sul palco, è stato per me un grande piacere perché tu sei... È stato un grande onore e piacere che ti seguo e vi seguo tantissimo anche per il microfono d'oro. Tu sei un artigiano dello spettacolo e appuntamenti li diamo perché io presenterò a Torvajani, al Dribbling Club, campeggio mare storico, 5 serate ad agosto, poi ti mando un messaggio whatsapp per sapere le date. Perfetto, perciò voi rimanete in contatto su tutti i riferimenti che stanno sul tuo sito, ricordiamolo. EventiRoma.com, abbiamo ovviamente tutte le pagine social, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, eccetera, eccetera, eccetera. Perciò Fabrizio Pacifici lo trovate ovunque, perciò seguitelo che ne vedrete delle belle, come sempre. Grazie Fabrizio. Grazie a voi, viva la radio. Ciao. Viva la radio, ascoltate la radio, ciao. Grazie a voi.